Mia madre ebbe un coraggio incredibile perché io mi ricordo quando subì le torture, la violenza da parte di un gruppo che venne definito poi dal giudice dei servizi segreti deviati italiani cioè una parte impazzita dello Stato organizzò il rapimento e lo stupro di mia madre e il fatto che lei riuscì a un certo punto a recitare quello che aveva subito in teatro fu una cosa veramente enorme io ancora oggi incontro delle donne che mi dicono grazie a tua madre ho avuto il coraggio di raccontare lo stupro che ho subito cioè noi dobbiamo proprio comprendere che questa società finalmente si sta muovendo verso la civiltà verso il rispetto delle donne, tutti siamo figli di una donna, ci dovrebbe essere un rispetto sacro verso le donne perché sono la fonte della vita del mondo, è una grande perversione ed è incredibile che questo atteggiamento verso le donne passa da sinistra a destra e al centro sopra e sotto io quando c'era cuore, supplemento dell'unità quotidiano del partito comunista fondato da Antonio Gramsci che poi uscì e divenne un giornale indipendente ma pubblicò una classifica delle cose per cui valeva la pena vivere e in cima c'era stuprare Irene Pivetti e io fui uno dei pochi che protestò, riuscì anche a far togliere questa cosa ma poi venne rimessa perché era troppo divertente, questo è l'orrore, cioè noi abbiamo una cultura maschilista che prescinde dalle appartenenze politiche, religiose Allora voglio dire due cose, la prima è che sono molto contenta di fare questa discussione stamattina in studio con quattro uomini perché è bene farla con gli uomini queste donne, parliamo sempre di donne tra donne invece è molto bene parlarne con gli uomini e la seconda è la cosa che ci ha raccontato Jacopo su sua madre, sulla capacità di parlare il teatro del suo stupro è molto importante perché una delle cose che incatena ancora oggi le donne è la vergogna invece quando subisci violenza non ti devi mai vergognare, devi denunciare Torniamo ai nostri grandi temi, dalla Cina Scusa, una cosa, la cosa terribile che ho visto perché poi per tutta la vita ovviamente mi sono occupato di, per quanto potevo, di aiutare donne che avevano subito la violenza la cosa incredibile, a partire da mia madre, che la reazione è si sono divertiti con me allora secondo me sarebbe il caso di dire che gli stupratori non hanno nessuna possibilità di provare piacere sessuale l'eiaculazione è una cosa diversa dall'orgasmo e il piacere vero, profondo, richiede abbandono, richiede tenerezza lo stupratore non ha il piacere, ma non solo il piacere sessuale, non ha il piacere neanche di mangiare gli spaghetti, di giocare con un cane, di vedere l'arte, di parlare con della gente sono persone che sono morte dentro, quindi le donne non devono sentirsi umiliate si sono scontrate contro una macchina impazzita, contro un olore, contro un'aberrazione allora, perdonate, mi chiudo questa parentesi che abbiamo aperto perché dobbiamo tornare ai temi che stanno dividendo